Apriamo le scritture in Isaia 54, Isaia 54. Avevo un altro passo di scrittura ma non so perché, ho sentito Isaia 54. Cominciamo a leggere, vediamo dove lo Spirito Santo ci porta. Giubila. Giubila o sterile, che non partorivi, prorompi in alte grida di gioia, tu che non provavi d'oglie di parto, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. Allarghi il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore, si distendino senza risparmio, allunga le tue corde e rinforza i tuoi pioli. Perché ti espanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché non sarai confusa. Non aver vergogna, perché non dovrai arrossire. dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è l'Eterno degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra, poiché l'Eterno ti ha chiamato come una donna abbandonata e afflitta nel suo spirito, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Ti ho abbandonata per un breve istante, ma con immensa compassione ti radunerò. In uno scoppio d'Ira ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con un amore eterno avrò compassione di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Per me questo infatti sarà come le acque di Noè, come giurai che le acque di Noè non avrebbero più coperto la terra, così giuro di non addirarmi più contro di te e di non minacciarti più. Anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno che ha compassione di te. Ho afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incastonerò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sugli zafferi. Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchio e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati dall'Eterno e grande sarà la pace dei tuoi figli. Tu sarai stabilita fermamente nella giustizia, sarai lontana dall'oppressione, perché non dovrai più temere e dal terrore perché non si avvicinerà più a te. Ecco, potranno anche radunarsi contro di te ma non sarà da parte mia. Chiunque si radunerà contro di te cadrà davanti a te. Ecco, io ho creato il fabbro che soffia sulle braci nel fuoco e ne trae uno strumento per il suo lavoro e ho pure creato il devastatore per distruggere. Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. Ne posso fare a meno di leggere questo passo di scrittura e pensare alla Chiesa di Messina? Sarei veramente limitato nella mia fede se pensassi per un momento che questa parola sia semplicemente per noi. Ma Dio che desidera fare cose che sono al di là delle nostre comprensioni. Egli va al di là di quello che pensiamo, va al di là di quello che possiamo anche premeditare per noi stessi. Egli va al di là. E spesse volte ci ritroviamo come abbiamo letto in un tempo dove ci sentiamo abbandonati da Dio ma ti assicuro che non sarà per sempre. Ecco una sensazione un sentimento che forse ti senti abbandonato o abbandonata. e forse non pensi che Dio potrebbe curarsi di te ma Dio desidera curarsi di te però si curerà di te in modi non come decidi tu si curerà di te in maniera come meglio egli crede sia a tuo vantaggio. La parola di Dio è una parola di comporto consolazione è una parola di promessa una parola che riguarda il futuro che riguarda un tempo e inizia con questa parola giubila giubila abbiamo giubilato stamattina abbiamo fatto festa stiamo giubilando ma il giubilo non è qualcosa che è limitata soltanto quando ci raduniamo insieme e cantiamo ma il giubilo deve essere qualcosa di costante nella nostra vita nel nostro cuore nei nostri pensieri il nostro giubilo deve essere costante davanti alla presenza di Dio la scrittura dice io benedirò l'eterno in ogni tempo quando mi conviene quando non mi conviene io benedirò l'eterno in ogni tempo e la realtà dei fatti non mi può indurre a pensare in un modo piccolo in un modo che è strano dalle capacità di Dio di dare grande dimostrazione di quello che Lui è potente a fare il sangue di Gesù è potente abbiamo cantato il sangue di Gesù è potente sì il sangue di Gesù è potente a salvarci ma è la tua fede che ti porta a superare ogni ostacolo nella vita le difficoltà nella vita si presentano ed è una mentalità giubila o sterile cioè tu che non avevi figli e tu che vuoi figli e tu che desideri essere mamma e tu che desideri essere padre e tu che desideri avere un contatto una progenie cioè vuoi essere messo in contatto con il futuro tu vuoi qualcosa che ti possa che ti possa far raggiungere il futuro e il signore dice tu pensa che tu non hai nessun futuro ma il signore dice io sono il tuo futuro e la tua speranza e al di fuori di me tu non hai futuro non hai né futuro né speranza e il signore e il signore qui ci dice stamattina giubila o sterile che non partorivi prorompi in gioia come? prima di avere figli? prima che si manifesti la promessa di Dio? come posso io prorompere in gioia se ancora non lo vedo? ecco la fede noi siamo salvati come? mediante la fede tutto quello che facciamo in questa vita la facciamo per fede la scrittura ci dice tutto ciò che non è fatto mediante la fede è peccato noi dobbiamo credere in quello che stiamo facendo dobbiamo credere alle opportunità alle occasioni che Dio ci dà del futuro e quello di presentarci al futuro con le braccia e le mani piene traboccanti di tutto ciò che Dio ha preparato per il futuro non possiamo andare verso il futuro a mani vuote se non c'è ancora la manifestazione è tempo di giubilare dice la persona accanto è tempo di giubilare noi dobbiamo cominciare a giubilare davanti al Signore quando ancora non riusciamo a vedere non comprendiamo le cose che Lui ha preparato per coloro che L'amano noi siamo amanti di Dio sia noi amiamo Dio e se amiamo Dio siamo stati chiamati secondo il suo proponimento e secondo il suo proponimento noi vedremo il frutto del nostro travaglio della fede come ha visto il frutto del travaglio Gesù Cristo il Signore noi siamo il frutto del suo travaglio e se ha visto noi a distanza anche noi dobbiamo vedere l'adempimento delle sue promesse non solo per la nostra vita non solo per quest'opera ma per la sua opera in questa città di Messina e che il Signore desti i suoi servi e che gli desti tutti i suoi ministri affinché i suoi ministri si alzano ma si alzano con la lode che si alzano con la verità che si alzano per credere quello che Dio dice che lui farebbe che lo fa e lo promette e lo adempie e non pensare che chissà se Dio lo farà e forse Dio lo farà Dio lo farà Dio lo farà giubila o sterile comincia a giubilare comincia ad allegrarti perché il tuo futuro è un futuro glorioso non è un futuro da sconfitti è Satana che ti dice tu non riuscirai mai ad uscire da questa tua condizione ma il Signore l'Eterno ti parla questa mattina e ti dice tu uscirai da questa condizione tu ne uscirai da questa condizione comincia a giubilare ora comincia a giubilare comincia a rallegrarti perché i tuoi figli cioè l'attempimento delle promesse di Dio stanno per arrivare forse hai trascorso troppo tempo ma ancora non partorisco ho un sogno da vent'anni ho un sogno da trent'anni ancora non si partorisce siamo incinta così oh Signore aiutaci non ce la facciamo più e il Signore dice non ti preoccupare tu continua a cominciare a rallegrarti comincia ora a giubilare giubila o sterile tu che non partorivi però rompi in alte gride no piccole non piccole ringraziamenti perché Dio l'acqua non mi interessa alleluia tu che non partorivi giubila rallegrati rallegrati perché il Signore è un Dio glorioso è magnifico tutto ciò che Lui ha promesso nell'Antico Testamento si è avverato nel tempo di Cristo e continua ad avverarsi in questi tempi anche in questa fascia della storia continua ad adempiersi l'opera di Dio continua se tu lo senti non lo senti se tu hai un sospetto che magari non è quello che dovrebbe essere non ti preoccupare perché Dio sa correggere i tempi sa correggere e manovrare e dirigere i tempi egli sa cosa fare con la sua chiesa quando la sua chiesa non risponde all'appello egli sa come destare la chiesa egli sa come risvegliare la sua chiesa egli sa cosa fare con i suoi figli egli sa come lavorare con coloro che ancora hanno un po' che sono un po' tentennanti egli sa come lavorare sa lavorare con quelle menti che lo resistono sa lavorare con quei cuori che sono ancora induriti ma che lui è pronto ad aprire ad ammorbidire davanti alla sua presenza egli sa come lavorare con quelli che lottano con la depressione con l'oppressione con il tormento lui sa come lavorare e sta preparando una via d'uscita perché anche in quella situazione c'è una via d'uscita quindi ti dico giubbila o sterile il tuo tempo sta per arrivare dice tu pensi che sarai limitato ma siamo sempre questi e Messina guarda Messina è piena gloria a Dio Messina è piena della gloria di Dio Messina io lo dichiaro nel nome di Gesù Messina è piena piena della gloria di Dio alleluia dice come le acque coprono i mari come le acque coprono i mari come le acque coprono Messina alleluia forse il maremoto che c'è stato nel 1908 era un segno di come il Signore avrebbe inondato e io vi dico che tanti sono morti ma tanti vivranno come tanti sono morti tanti vivranno con la vita di Dio perché il Signore è pronto a restaurare questa città a ristabilire questa città tutto quello che Satana ha voluto fare per distruggere la città di Messina Dio è pronto è messo con le mani all'aratro e sta lavorando già da decenni per riportare o manifestare nuovamente la sua gloria per come l'ha fatto nel passato e il Signore sta dicendo che cosa sta dicendo giubila o sterile tu che pensavi che la cosa era finita tu che pensavi che non c'era più speranza tu che pensavi che non c'è più un futuro io ti dico che c'è un futuro c'è una speranza e la gloria di Dio aspetta la Chiesa che è una Chiesa affamata per il Signore una Chiesa che vuole e desidera avere la sua presenza più di ogni altra cosa giubila o sterile giubila poi dice allarga il luogo della tua tenda allarga il luogo della tua preparati preparati mi viene in mente quel passo in Zaccaria capitolo 2 se non sbaglio dove dove qualcuno va a misurare la grandezza della città di Gerusalemme e l'angelo dice ad un altro vai a fermarlo fermarlo perché non si può misurare non si può misurare Gerusalemme perché ci saranno molte più persone di quanto si pensa che l'opera di Dio è molto più grande di quanto si pensa fratelli posso dirvi qualcosa che veramente mi disturba mi disturba il fatto che che le chiese si sono adagiati su quello che hanno si è persa la visione per la città si vuole che il Signore scusate si vuole che il Signore intervenga ma solo per riempire la loro comunità fratelli io voglio che tutte le comunità siano traboccanti e per questo dobbiamo pregare che tutte le chiese siano così traboccanti dove non c'è posto per nessuno e dobbiamo costruirne uno di 20.000 posti a sedere che dite voi alleluia per fede può succedere e succederà per fede succederà quello che per noi è impossibile perché Dio è pronto a fare fratelli noi abbiamo detto e ne sono passati da quest'opera si allora questo è quello che credete voi il pastore Davide ne sa qualcosa si quello è questo è il vostro sogno voi state fantasticando le promesse promesse di Dio sono si e amèn egli è fedele e lui farà anche questo quello che per noi può essere anche impensabile qualcosa che non è possibile che avvenga ma il Signore sa come aprire le cateratte del cielo e riversare sul suo popolo una grande benedizione che non riesce a contenere fratelli noi siamo di coloro che stanno nella breccia per riparare la breccia stiamo sulla breccia lì per coprire una separazione e per dire alla chiesa di Messina ci crediamo continuate a crederci e se c'è un messaggio da mandare ai nostri fratelli è quello che Dio ha promesso e Dio farà Dio non si tira indietro Dio ha promesso l'ha promesso ai nostri padri ed egli lo farà non stiamo fantasticando noi stiamo dichiarando la parola di Dio per come lui l'ha promesso e se sono folle io sia folle pure per dichiarare la parola di Dio ma preferisco stare in mesa solo davanti a lui che stare insieme ai fratelli e scendere alla loro al loro livello dove c'è mancanza di fede dove non si crede più alle cose che Dio può fare il fratello Nino se n'è andato col Signore è finito tutto il fratello Femminò se n'è andato ed è finito tutto l'altro fratello Lombardo non mi ricordo chi sono gli altri fratelli il fratello Crisafulli se n'è andato ed è finito tutto ma fratelli sia il fratello Crisafulli che il fratello Nino Cannavo che il fratello Femminò e quanti altri sono venuti il Signore ha operato perché loro credevano noi abbiamo smesso di credere e noi dobbiamo riprendere la fede e dire io comincio a giubilare ora perché so che non sarò sterile Alleluia perché Dio che mantiene le sue promesse porterà a compimento le cose che ha detto e se io penso che in qualche modo tutto è limitato a quello che già c'è vi saluto me ne vado in America anche se vado in America martedì non significa che se non mi vedete qui la prossima ma capitemi capitemi dobbiamo capire comprendere con tutto il cuore dobbiamo comprendere con tutto il cuore che la visione di Dio verrà a compimento se lo senti o non lo senti e il Signore ci sta dicendo stamattina giubilate rallegratevi allargate il luogo della vostra dimanche ma prima di allargare un luogo se non si allarga qui dentro a voglia mi allarghi una volta ho detto a Lidia dobbiamo creare un'esigenza è necessario creare un'esigenza cosa vuol dire creare un'esigenza come mettere davanti a Dio un'esigenza che lui deve per forza operare un'esigenza avete capito questo che ho detto creare un'esigenza è necessario creare un'esigenza per avere un allargamento per allargarci dobbiamo creare un'esigenza l'esigenza sarebbe in questo caso ipoteticamente parlando un'ipotesi è come dire che già siamo arrivati a fare due tre servizi qui alla domenica vi interessa o no? ho detto a Lidia dobbiamo creare un'esigenza sapete che quando ci siamo trasferiti qua eravamo in un salotto eravamo solo dodici persone e quando ci siamo trasferiti qua tu ricordi bene eravamo tutti in prima fila non predicavo da lì predicavo qui sotto usavo un leggio e tutti 186 erano tutti uguali eravamo solo dodici qualcuno mi ha detto ma c'era bisogno tutto sto gran locale guardati attorno e se fossimo tutti presenti sarebbe pieno ma questo è il Signore che opera è il Signore che fa ma qualcuno ci deve credere qualcuno deve avere la fede qualcuno deve dire io comincio a giubilare adesso perché so quello che lui farà nel futuro per la tua vita comincia a giubilare adesso perché già dovresti sapere quello che lui sarà pronto a fare nel futuro tu già devi essere convinto che non rimarrai sterile che non rimarrai nella condizione in cui ti trovi che ti aspetta un futuro che è di gran lunga più glorioso di quanto lo vedi adesso e non essere limitato nei tuoi modi di pensare ma è troppo difficile ci sono molti nemici guarda Paolo stesso ha detto dice davanti a me Dio ha messo una porta ma ci sono troppi nemici un sacco di nemici cioè ogni volta il Signore ti apre una porta ti apre una porta davanti ci sanno tutti i nemici per bloccare l'opera di Dio e Satana sa come posizionarli per ostacolare l'opera di Dio alcuni sono stati dentro alcuni hanno ostacolato da fuori alcuni hanno ostacolato da lontano ma qualcuno c'è stato sempre qualcuno a cercare di ostacolare l'avanzamento dell'opera di Dio ma grazie a Dio dopo 13 anni sono 13 anni ma siamo ancora qui non poterlo guadare alleluia e siamo qui ancora a giubilare perché noi stiamo stiamo pregando che il Signore faccia qualcosa di straordinario non solo per noi ma anche per quelli che non ci vogliono in questa città perché vogliamo che Dio li benedica alleluia questo è il giusto atteggiamento e dice larga la tua dimora la mia preghiera o la nostra preghiera dovrebbe essere che un giorno tutte queste comunità si radunano sotto un unico tetto quella che meravigliosa chiesa sarà dice e tu mi diresti tu mi diresti sì allora qualcuno ha detto della nostra venuta qui in Italia sì allora qualcuno ha detto della nostra permanenza qua sì allora qualcuno ha detto dieci anni di ministerio sì allora e che loro continuano continuano a dire sì allora fino a quando ritornerà il Signore fratelli non ce l'abbiamo con nessuno ma noi siamo qui perché siamo qui per ubbidienza e noi continuiamo ad ubbidire il Signore in quello che Egli ci ha detto di fare nella perseveranza nella costanza quando ci conviene quando non ci conviene Dio è buono ed Egli quello che promette Lui lo farà e dice allarga la tua tenda allarghiamo questa tenda cominciamo ad allargare questa tenda perché siamo limitati siamo limitati dicevo a un gruppo della scuola biblica che il Signore prosciugherà le acque il momento in cui tu pensi che quello che tu stai facendo debba crescere il Signore prosciugherà perché il desiderio di Dio non è quello di creare un ambito di manutenzione cioè dei mantenimenti ma dobbiamo dobbiamo mantenere mantenere no no il Signore vuole farci uscire fuori fin quando il nostro cuore non comincia ad allargarsi e questa tenda non comincia ad allargarsi per fare entrare sotto quelli che ancora non conoscono il Signore se non succede quello rimarremo proprio fossilizzati nei nostri vecchi sogni e pensieri ma il Signore dice allarga la tua tenda sta dicendo guarda c'è una cosa diversa che io voglio fare dice così dice allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore si distendino dice senza risparmio cioè crea questa Gerusalemme costruisci questa Gerusalemme non puoi misurare questa Gerusalemme perché se lo misuri poi limiti Dio in quello che lui desidera fare e non lo vogliamo limitare noi non lo vogliamo dice farlo senza senza risparmio cioè non ti limitare in nessuna cosa perché avere perché avere un locale di vi dico per esperienza una comunità che ho visitato dove la chiesa era strapiena tutte le persone sono state invitate a predicare in questa comunità anni fa ed era strapiena c'erano persone in piedi tutto intorno c'erano persone in piedi anche in mezzo a un'altra città dove siamo stati nei Filippini con Papa Aghille era una chiesa chiesa battista c'erano persone dappertutto fino avanti un'altra comunità c'erano persone sedute addirittura sotto il pulpito persone ma tante persone fratelli bisogna creare un'esigenza abbiamo bisogno di un locale più grande o abbiamo bisogno di passare a due o tre servizi la settimana dobbiamo creare un'esigenza che questa esigenza poi deve essere possiamo andare al Signore Signore è un bisogno che facciamo c'è un'esigenza ha mai creato un'esigenza con la tua vita cioè il tuo modo di credere il tuo modo di operare il tuo modo di camminare col Signore ha mai creato un'esigenza davanti al Signore Signore io ho bisogno io ho bisogno abbiamo abbiamo creato un'esigenza davanti al Signore dove c'era bisogno che Dio intervenisse e gli è intervenuto mai ci ha lasciati così mai ma dobbiamo creare quell'esigenza la persona sterile crea l'esigenza quando comincia a giubilare dice guarda questa persona già sta giubilando si aspetta qualcosa si rallegra già a priori a priori già già si rallegra perché si aspetta qualcosa c'è qualcosa che si aspetta che Dio faccia nei loro confronti pensare di essere limitati in quello che pensiamo che Dio possa fare o che Dio voglia fare noi stiamo esaurendo ogni possibilità di poter crescere in fede cioè noi dobbiamo personalmente crescere in fede cioè con la consapevolezza che Dio vuol fare al di là di quanto noi possiamo pregare immaginare e quant'altro se limitiamo Dio se lo limitiamo lo stiamo limitando perché pensiamo che Dio possa fare solo fin qui o solo tanto ma è necessario che la Chiesa proprio cresca in fede in quella fede che possa raggiungere stratosfere che sono al di fuori di quello che sono che fanno parte dell'immaginazione personale cioè io posso immaginare qualcosa ma con la mia immaginazione posso anche limitare la mano di Dio perché la fede non permette a Dio di operare quindi devo allargare la mia tenda devo allargare il mio modo di pensare devo allargare la mia fede devo dire signore guarda la mia casa la mia casa c'è un sacco di spazio c'è un sacco di spazio qui c'è un sacco di spazio ancora deve essere riempita signore e si prega fino a quando sia riempita quando si crei l'esigenza e una volta che si crea l'esigenza signore adesso dobbiamo passare ad alto abbiamo bisogno di un locale più grande fratello a me non interessa stare qui io è bello stiamo giustando gloria a Dio per tutto questo però noi vogliamo un locale molto più grande abbiamo anche bisogno di un locale in zona nord abbiamo di bisogno dobbiamo creare l'esigenza dobbiamo creare l'esigenza dobbiamo dire dice alla persona dobbiamo creare l'esigenza che cosa dice perché dice le tue dimore si distendono senza risparmio allunga le tue corde rinforza i tuoi violi ma se ancora non c'è nessuno perché ancora allungare i pioli e fare tutto questo lavoro perché ti espanderai questa è la promessa di Dio perché ti espanderai a destra e a sinistra la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte cioè Dio è pronto a fare qualcosa vuole adempiere le sue promesse ma siccome noi non ci crediamo nemmeno ci prepariamo e limitiamo Dio limitiamo noi stessi davanti a Lui ci limitiamo e diciamo signore e io fino a qui ti posso credere fratelli noi abbiamo bisogno di essere un popolo che crede allo straordinario non all'ordinario l'ordinario è venire qui ogni domenica questo è ordinario ma straordinario è credere che Dio ogni qualvolta che veniamo qua che tutte le sedie siano piene ci sono persone che amano veramente Dio con tutto il loro essere con tutta la loro vita che sono adoratori di Dio che sono ferventi zelanti nel Signore che amano il Signore che sono veramente dati e dediti all'opera di Dio questa è la passione che deve riempire il locale noi possiamo per certo dire un sacco di cose per poter convincere noi stessi che Dio farà cose grandi ma se la fede non nasce nel cuore e se non ce l'abbiamo dentro la fede di Dio quella di poter guardare il futuro e dire il Signore è nel mio futuro il Signore è presente nel mio futuro il Dio opererà nel futuro io so che Lui è lì e quindi sto andando verso quella direzione perché devo raggiungere Lui nel futuro il problema è che quando uno non giubila versetto 4 dice cosa non temere appena smettiamo di giubilare smettiamo di avere speranza non diamo nessuna dimostrazione di speranza dice il Signore dice non temere perché non sarai confusa il momento che smettiamo di giubilare la confusione entra non sappiamo dove andare cosa fare se credere più in quell'opera se far parte di qualcosa uscircene boh che ne so non capisco più niente confusione noi dobbiamo imparare a giubilare perché Dio è buono e Lui farà tutto quello che ha promesso questo è ciò che ci mantiene nel percorso sono 14 anni per me e per Lidia 14 anni dal 2007 15 anni scusa 2007 scadendo un po' che matematica 15 anni e continuiamo a credere continuiamo a credere che Dio farà quello che ha promesso di fare alleluia dice non temere perché non sarai confusa non ti preoccupare succederà e se tarda aspettala perché perché per certo verrà e non tarderà dice non temere perché non sarai confusa non aver vergogna perché perché tutti gli altri ho detto signore che tu avresti fatto e ora mi vergogno perché non sta succedendo niente e magari posso anche preoccuparmi per dire io sarò io farò e questo e quell'altro tu farai signore tutte le promesse di Dio poi non succede niente per un tempo ma le promesse di Dio sono che cosa sì e amè dice perché non dovrai arrossire dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza cioè camminavi come una moglie senza marito senza qualcuno che ti potesse dare quel futuro camminavi con un uomo o con una con una visione o eri sposata a qualcosa che non poteva produrre una progetto un futuro dei posteri ma il Signore dice dice tu non ricorderai più il disonore che quella sensazione di vedovanza ti ha portato quanti di noi si sentono vedove è come se nella vita non c'è futuro e si campa di giorno e giorno si passa da un momento all'altro giorno e giorno ci svegliamo ci svegliamo ci addormentiamo ci svegliamo ci addormentiamo e così passa la vita e poi si arriva a dire ma con questa vita che ho fatto un po' cosa ha fatto ma il Signore dice tutte quelle esperienze quella rossire a motivo della tua vergogna quell'incubo che avevi di essere solo abbandonato della tua vedovanza la sensazione di essere vedo dice tu lo dimenticherai non te lo ricorderai più quando Dio metterà la sua mano e opererà e farà le cose che ha promesso dice il tuo creatore è il tuo sposo ma io non ho sposo Isaia 60 62 Isaia 62 Alleluia versetto 3 dice sarai una splendida corona nella mano dell'Eterno un diadema regale nella palma del tuo Dio non sarai più chiamata abbandonata nella tua terra sarà più detta desolazione ma sarai chiamata la mia delizia è in lei e la tua terra qual è la nostra terra l'Italia o Messina chiama Messina sarà maritata la nostra terra avrà uno sposo e il nome dello sposo di Messina è Gesù Cristo c'è la tua terra maritata perché l'Eterno trova piacere in te e la tua terra avrà uno sposo la tua terra la nostra città avrà uno sposo la nostra città di Messina avrà Gesù Cristo come suo sposo chi ci crede alleluia dobbiamo continuare a continuare a crederci con costanza e crescere in questa fede che il Signore farà qualcosa nella nostra città stiamo parlando sempre al futuro 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 immagina tutti i profeti che parlavano della venuta del Messia ma passarono centinaia centinaia di anni e qualcuno poteva dire sì allora dobbiamo intitolare questo messaggio sì allora alleluia sì forse chissà sì ma io ringrazio Dio per le persone che ci stanno accanto perché anche loro credono non voglio essere circondato da persone che non ci credono come possono due camminare insieme se non sono d'accordo alleluia grazie a Dio abbiamo pastori qui che credono io vorrei che tutti voi poteste credere che Dio farà qualcosa di straordinario e noi ce lo aspettiamo lo stiamo aspettando perché per certo arriverà vado verso la conclusione se c'è una conclusione alleluia perciò come un giovane sposa una vergine i tuoi figli sposeranno te come lo sposo gioisce per la sposa così il tuo Dio gioirà per te ecco la conclusione sulle tue mura o Gerusalemme opposto delle sentinelle che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai voi che ricordate all'eterno le sue promesse non state in silenzio e non dategli riposo finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme la lode di tutta la terra c'era ancora del tempo c'era da aspettare che cosa si doveva fare durante quel tempo mentre gli altri dicevano sei sterile mentre tutti gli altri dice non hai marito mentre tutti gli altri dice non sei connesso a nessuno mentre non sei collegato con il proposito di Dio e quante cose ci sono state dette siamo fuori siamo fuori siete fuori sei fuori fratelli noi abbiamo uno sposo e si chiama Gesù Cristo e vi assicuro che Messina avrà quello sposo Gesù Cristo quanti noi ci crediamo a questo dobbiamo crederci dobbiamo crescere in fede e crescere nel fatto che siamo stati chiamati questa è la cosa che dobbiamo capire siamo stati chiamati come quelle sentinelle che stanno su quel muro che giorno e notte non 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 chiudono bocca ma stanno sempre lì a intercedere per la città a pregare per la città e dire al Signore Signore noi non ci stancheremo e ti ricordiamo delle romesse che tu hai fatto noi non staremo più in silenzio noi vogliamo ricordare al Signore fratelli quanti voi pregate ogni giorno sono tanti tutte le mani si dovrebbero alzare quanti noi preghiamo ogni giorno e non alzare la mano se non preghi ma quando pregate quanti noi preghiamo per la città di Messia che il Signore possa unire le chiese quanti noi preghiamo che ci sia vittoria nella chiesa di Messina e che la chiesa sia unita compatta e che la chiesa abbia un'unica missione che non ci sia che lo spirito settario sia rimosso dalla chiesa e che la chiesa sia veramente convertita al proposito di Dio siamo convertiti alle nostre idee ci siamo convertiti ai nostri sogni ma dobbiamo convertirci a Gesù Cristo e alla venuta del suo regno così così la sterile avrà figli così la vedova avrà un marito e così la chiesa il regno di Dio avanzerà in questa città alziamoci in piedi non dategli riposo non dategli riposo dice la persona accanto non diamogli riposo non diamogli riposo signore noi non vogliamo darti riposo finché tu non abbia tu non abbia sparso il tuo spirito su questa città e che ci sia una rivelazione profonda di Gesù Cristo come re e signore di questa terra e che questa terra veramente sia maritata sia considerata come una terra dove lo sposo è presente dove Gesù è coronato re e signore dalla sua sposa e che la chiesa creda in lui come una sposa che si adorna per lui si prepara per lui noi siamo la tua sposa Gesù noi siamo la tua sposa siamo il tuo popolo signore grazie perché in tutti questi anni tu ci hai ci hai seguiti ci hai pasciuti signore noi abbiamo siamo stati nutriti dalle tue mani signore tu stesso ci hai dato da mangiare tu hai provveduto sei stato il nostro protettore durante questo tempo sì signore è stato proprio in questi giorni due anni fa signore che il tetto il soffitto è caduto in questo locale e noi ti ringraziamo signore perché oggi possiamo dire che la mano del signore è stato propizia ci ha guardato ci ha sorvegliato signore ci hai protetti signore da quanto è successo e noi ti ringraziamo signore e quante altre cose e sono state anche in questi giorni signore 30 anni fa signore che tu hai guarito mia figlia dal cancro e noi ti ringraziamo signore perché tu e la tua mano hanno fatto signore promesse che tu hai fatto e che hai portato a compimento come hai portato a compimento quelle promesse quando tu hai promesso hai fatto hai compiuto signore tu farai anche questo e noi ti dichiariamo signore che non siamo più sterili non siamo più vedue noi dichiariamo signore che da ora in poi noi giubiliremo la tua presenza giubila o sterile giubila o sterile giubila giubila perché i tuoi figli vengono da lontano dal nord e dal sud dall'est e dall'ovest grazie signore per le tue promesse la tua parola regna su di noi l'eterno vi custodisca vi protegga la sua mano sia su di voi e che la sua pace vi accompagna ogni momento della vostra vita che la sua grazia vi copra e che la sua guarigione si manifesti nei vostri corpi la sua gloria si manifesti nelle vostre case e il nome di Gesù Cristo sia innalzato nei vostri cuori andate in pace nel nome di Gesù Amen Amen Amen